Edder, Mech, Pallister. Possibile colpo di scena a Rimini, Manuela Bianchi è appena entrata in procura. È stata convocata dagli inquirenti per una sit sommare informazioni testimoniali. Difficile capire cosa le verrà chiesto, forse sono emersi nuovi elementi di cui deve rispondere o magari deve allineare la sua versione attuale con quella precedentemente fornita agli inquirenti. Se emergessero durante questo processo nuovi elementi, lei sarà chiesto di affidarsi a un legale e poi continuerà l'interrogatorio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Edder, Mech, Pallister.